Se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e lascia un like John George I, meglio conosciuto come il vampiro del bagno d'acido, è stato un famoso serial killer che terrorizzò l'Inghilterra, in particolare la zona del Sussex, durante il periodo della seconda guerra mondiale. I riuscì a uccidere cinque persone, a bere il sangue delle vittime e a dissolvere i loro corpi nell'acido, prima di essere finalmente arrestato e condannato. Nato il 24 luglio 1909 in una famiglia benestante dello Yorkshire, I crebbe in un ambiente dominato dalle rigide regole della secta religiosa dei Peculiar People o De Plymouth Brethren a cui appartenevano i suoi genitori. Questa educazione puritana e lontana dalla realtà della società lo isolò, privandolo delle normali gioie dell'infanzia e contribuendo alla sua visione distorta del mondo. Fin da piccolo, I manifestò una sensibilità particolare nei confronti degli animali, che considerava più degni di fiducia degli esseri umani. Questo rapporto speciale con gli animali potrebbe aver contribuito alla sua incapacità di sviluppare relazioni normali con le persone. La sua famiglia, convinta che il mondo fosse corrotto e malvagio, lo tenne lontano dalle influenze esterne, contribuendo a creare in lui un senso di alienazione e isolamento. Durante l'adolescenza, I sviluppò una parlantina convincente e imparò l'arte della menzogna, diventando un abile bugiardo che sapeva sempre cosa dire agli altri per ottenere ciò che voleva, questa abilità lo aiutò a nascondere il suo vero sé dietro una facciata di normalità e irrispettabilità. Dopo aver terminato gli studi, I intraprese vari lavori, ma nessuno sembrava soddisfarlo appieno. Entrò in contatto con il mondo dell'alta finanza, dove ottenne temporaneamente successo prima di essere coinvolto in un furto di denaro che lo portò alla perdita del lavoro. Successivamente, si sposò e venne arrestato per frode, trascorrendo diversi anni in prigione. Durante la sua permanenza in carcere, I venne emarginato dalla sua famiglia religiosa a causa dei suoi peccati, una situazione che lo turbò profondamente. Una volta scarcerato, si trasferì a Londra dove iniziò la sua carriera di serial killer. Di nuovo coinvolto in truffe, tornò in prigione e fu durante questo periodo che iniziò a elaborare la sua folle idea di dissolvere i corpi delle sue vittime nell'acido per evitare di essere scoperto. Il suo primo omicidio avvenne dopo aver stretto amicizia con William Donald M.C. Swan, proprietario di un parco giochi. I uccise M.C. Swan e ne dissolse il corpo nell'acido, dando così inizio alla sua serie di omicidi spietati. Utilizzando la sua capacità di convincimento e la sua abilità nel mentire, I attirò le sue vittime nell'inganno e le uccise senza pietà. La sua ossessione per il sangue e la sua convinzione che il cadavere fosse la prova essenziale per condannare un assassino lo portarono a ideare il macabro metodo di dissolvere i corpi nell'acido. Questo comportamento mostruoso e inumano fece sì che I divenisse noto come il vampiro del bagno d'acido. Dopo aver ucciso cinque persone, I fu infine arrestato e processato per i suoi orribili crimini. Condannato a morte, fu giustiziato tramite impiccagione il 10 agosto 1949. La sua storia rimane una delle più oscure e disturbanti nella storia criminologica britannica, un caso di follia omicida che ha sconvolto l'opinione pubblica e generato fascinazione morbosa per la mente distorta di un assassino spietato. John George I, noto anche come il «vampiro di Londra», era fermamente convinto che la polizia avesse bisogno di un corpo fisico per perseguire un assassino. Durante la sua permanenza in carcere, aveva sperimentato l'uso dell'acido su topi e tessuti animali, cercando di capire quanto velocemente i corpi si dissolvessero nell'acido. Nel 1944, I fu coinvolto in un grave incidente automobilistico che gli causò una ferita grave alla testa. Durante l'incidente, il sangue venne a schizzi nella sua bocca, risvegliando, almeno secondo lui, una sete di sangue che credeva di avere già avuto durante l'infanzia. Dopo l'incidente, I iniziò ad avere un incubo ricorrente, che descriveva come un sogno malato pieno di vampiri, crocifissi e foreste sanguinolente. Questo incubo lo angosciava profondamente, rivelando la sua mente contorta. Nel 1944, I affittò una cantina al numero 79 di Gloucester Road e la utilizzò come deposito per le damigiane di acido che avrebbe usato per dissolvere i corpi delle sue vittime. Fu in questo periodo che rincontrò l'amico William Donald M.C. Swan. Tuttavia, il 6 settembre 1944, M.C. Swan spari misteriosamente. Spinto da una sete insaziabile di sangue, I uccise M.C. Swan colpendolo alla testa con uno strumento appuntito. Successivamente, gli tagliò la gola e beve il suo sangue da un boccale. La data del 9 settembre sul suo diario indicava probabilmente la data dell'omicidio di M.C. Swan. Una volta dissolti i resti di M.C. Swan nell'acido, I si fece passare per amministratore dei beni di M.C. Swan con i genitori del defunto, riuscendo a impossessarsi dei loro beni tramite un inganno. Poi procedette a sciolgere anche i genitori di M.C. Swan nell'acido, simulando la loro partenza per l'America. I continuò i suoi crimini, uccidendo una signora di mezza età a Hammersmith, la cui identità rimaneva sconosciuta. Poco dopo, uccise anche i genitori di M.C. Swan con la stessa modalità, dimostrando la sua sete insaziabile di sangue e il suo gusto per dissolvere i corpi nell'acido. Con l'inganno e l'astuzia, I riuscì a sottrarre denaro e beni alle sue vittime, nascondendo abilmente le prove dei suoi delitti. Continuò a uccidere, dissolvendo i corpi delle sue vittime nell'acido e raccogliendo i loro beni per arricchirsi. John George I, noto come il vampiro di Londra, è stato arrestato nella stazione di Chelsea in un atteggiamento distaccato e tranquillo. Aveva discusso in precedenza in carcere sull'importanza del corpus delicti e aveva sfidato gli investigatori con la sua confidenza nella loro incapacità di provare i suoi crimini senza un corpo. Ha dichiarato di avere fatto scomparire la signora Duran Dicon sciogliendola nell'acido e ha confessato di avere ucciso altre nove persone, bevendo il loro sangue. Mentre I veniva detenuto in attesa di processo, egli ha continuato a confessare i suoi delitti, inclusi altri tre omicidi. La confessione da sola non era sufficiente come prova per incastrarlo, quindi è stato affidato ai medici per una valutazione psichiatrica. Nel frattempo, il capo ispettore Mahon e il dottore Kit Simpson hanno esaminato il magazzino dove I aveva effettuato i suoi macabri esperimenti. Durante la ricerca, sono stati trovati 12 kg di grasso umano, calcoli biliari e frammenti di ossa umane. I non aveva considerato che l'acido avrebbe impiegato del tempo per dissolvere la plastica, rivelando così ulteriori prove dei suoi crimini. Il processo ha avuto inizio il primo aprile 1949, con I che tentava di ottenere l'infermità mentale e l'accusa che cercava di dimostrare la sua capacità di intendere e volere. Dopo una serie di testimonianze e perizie psichiatriche, I è stato dichiarato colpevole di omicidio il 18 luglio 1949. È stato condannato all'impiccagione e ha trascorso i giorni tra la condanna e l'esecuzione scrivendo lettere di scuse ai genitori e facendosi fare un calco del viso da Madame Tussaud. Il 6 agosto 1949, John George I è stato giustiziato nel carcere di Wandsworth per i suoi orribili crimini. La sua storia rimane una delle più oscure e inquietanti della storia criminale britannica. Le autorità vennero a conoscenza dei delitti di I nel 1949, quando lui stesso confessò di essere il responsabile. Venne arrestato dopo che furono trovati i suoi effetti personali con tracce di sangue delle sue vittime. L'orrore dei suoi crimini e la sua mente malata lasciarono un segno indelebile nella storia criminale di Londra. I, conosciuto come il Vampiro di Londra, continuò a rivelare dettagli sempre più inquietanti dei suoi delitti, lasciando il pubblico sconvolto di fronte alla sua malvagità. La sua storia resta oggi un triste capitolo nell'oscuro mondo dei serial killer. Vittime confermate di I Famiglia MC Swan, William Donald MC Swan, 9 settembre 1944, Donald Emy MC Swan, 2 luglio 1945, Coppia Anderson, Archibald e Rosalie Anderson, 12 febbraio 1948, Enrietta Ellen Olivia Roberts-Durand Deacon, nata Fargus, 18 febbraio 1949. Grazie a tutti. Grazie a tutti.